Buongiorno ragazzi, sono le 6 e qualcosa del mattino, quasi le 7 Sono svegliata alle 4 di stanotte Rido perchè non ho parole Ho tutto sbariglio ma non dormo Ehm, si sono in bagno Piccolo spoiler E niente, apriamo la casella numero 14 Sono nero, non voglio dire Sì, 2 di 14 Una crema Penso che sia per la notte, penso Non sono sicura Della Goress Adesso diamo Ho 3000 creme Vediamo chi mi ha scritto E poi torniamo Ragazzi, sto andando su Vado a prendere il computer Il computer E il La saponetta O della wifi Della VARFO Se mi ricordo Se mi ricordo Beh Che Ho La memoria di un bratico Ho fatto il disangelo Ho fatto il disangelo La memoria di un bratico Allora 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 Il poletologo Non so se Vabbè Vabbè Appoggio L'appoggio Qua 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 eccomi qua mi porto via la mia agenda e il mio quaderno di youtube la penna nera rosa ora si ripreso qua penna blu penna rosa poi porto via questa semaglia di sistemare il problema di colore è quello blu che ho qua dentro poi volevo fare casomai colori stessi e i giorni che di solito servono i giorni che passano quindi mi porto via la mia agenda una gomma mi porto via la scolorina non si sa mai porto via tutte le stabili se non è chiaro nel entro forse non cadono radici però se io questo quale passo sull'altro straccio sarebbero meglio questo è il prossimo stabile otteniamo l'altro straccio che l'avevo messo e prendiamo le altre pene colorate sentite per tutte le mie pene colorate così ma non ho questo ma quando faccio le cose a casa ecco quegli altri sono con le doppie non so più dove sia la saponetta ok allora intanto mettiamo via il computer scusatemi scusatemi non porto via il cavalletto ovviamente sto insieme il cavalletto il venone il meglio e il peggio poi qua ci metto questa qui non ci sta questo non lo fa troppo non riesco a chiudere la doppia è questo poi il mouse il mouse ah lo metto dentro il tappetino per il mouse non lo fa troppo 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 Ok, carica batterie nel computer, scarica batterie nel telefono. Un telefono, cuffiette e adesso vedete che trovo la mia, questa buonetta. Allora, la mia saponetta che fine ho fatto? Boh, riprendo il tappertino. Ok. 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 QUA Ok. utive. verde dello star eccolo qua ma è questa è la dispensa dei nonni e qui c'è l'acqua a spaldare qua ragazzi in fase editing computer ed ecco la mia bella faccina va bene ragazzi vi appoggio così e edito dopo magari guardo un film se riesco anzi o edificare gli altri video quindi penso che oggi mi dedico all'editing video così mando line oggi i due vlogmas e e domani mando line questo blog che sto facendo adesso e non troppo a video vabbè a dopo allora ragazzi sto editando gli altri video sono tornata a casa sto editando gli altri video poi finirò anche le decorazioni o le ultime tre o quattro a finire e la pallina una sfera una palla che domani porto la prossima settimana ma è quello che può portarlo del sole in camera mia è piccolo non che vedo niente totalmente in camera t e niente finisco di editare questo tanto sto facendo quello dell'agenda e poi mi mancano gli altri dopo editare è programmato anche gli altri due video che sono già andati uno online e uno tra un po' e dopo di che faccio lo scrub la labbra che non ho bisogno e poi si programma l'aggiornamento del computer e poi mangiamo metto in carica intanto perché siete a batteria zero e magari se riesco stasera vedete anche questo video così domani è già online le mani andiamo a togliere sperando che non cambi un'idea che sto benedetto a parecchio e niente a dopo allora ragazzi sto guardando l'ultima puntata della strada verso casa io vi mando un bacione e ci diamo domani con il prossimo vlogmas in più finisco di editare dopo alcuni canoni alcuni alcuni video e questo qui che ciao